Alla scoperta di Cartoceto dall'11 al 17 novembre sulla scia del progetto 50x50 Capitale al Quadrato di Pesaro 2024 per una settimana di promozione delle eccellenze del territorio dallo storico olio d'op all'arte architettonica, musicale, teatrale e non solo. Sette giorni all'insegna della cultura che abbraccia e sposa la natura di un intero territorio. Nel periodo di Cartoceto dopo il festival che è la 47esima edizione della mostra al mercato dell'olio dell'oliva e abbiamo pensato alla settimana di Pesaro 2024 Capitale Italiana della Cultura proprio come una estensione di questo contenitore culturale dove sostanzialmente abbiamo messo insieme arte, cultura, paesaggio e gastronomia. Quello che abbiamo cercato di fare è di organizzare una settimana che sia perfettamente in linea con il tema di Pesaro 2024 cioè la natura della cultura e quindi siamo andati e andremo dai laboratori inclusivi con i bambini dell'istituto comprensivo Marco Polo di Lucrezia per far conoscere anche il valore appunto della natura delle piante officinali agli spettacoli teatrali fino ad arrivare ai concerti che abbiamo definito segreta bellezza cioè concerti nei luoghi di produzione delle nostre eccellenze in gastronomia dove metteremo appunto insieme in questo caso ancora una volta natura e cultura fino poi ad arrivare anche alle testimonianze identitarie del nostro borgo storico del nostro paese con la collaborazione di alcune associazioni culturali del territorio per poi concludere il tutto con trionfo gourmet cioè una sorta di pranzo spettacolo in quello che è la culla culturale del nostro paese e cioè il teatro del trionfo di Cartoceto. C'è grande attesa per la settimana da capitale di Cartoceto che il vice sindaco pesarese definisce un volano per il progetto e obiettivo più grande di una pesaro capitale europea nel 2033. La settimana di Cartoceto è particolarmente in linea con quello con lo spirito della cultura non poteva essere altrimenti in un territorio che ha fatto della bellezza della cura del territorio partire dalla cura del attraverso l'agricoltura attraverso il paesaggio ma anche attraverso la trasformazione dei prodotti come appunto l'eccellenza nazionale della DOP di Cartoceto ma anche della bellezza architettonica del borgo e non a caso ci sarà anche un doppio appuntamento anche con l'ordine degli architetti proprio a valorizzare il tema dei borghi dal punto di vista architettonico ma anche della vita nei borghi e anche un po' il simbolo che è il frantoio del trionfo che è una delle condizioni migliori tra patrimonio e tecnica, arte e anche valorizzazione di quello che è il tema della cultura olearia e quindi insomma una settimana veramente ricca che parte con un importante coinvolgimento anche delle scuole dal punto di vista della didattica dal punto di vista della conoscenza delle piante, delle essenze per andare proprio alla natura della cultura e per poi andare su musica, fotografia, pittura, insomma le arti che pervaderanno il borgo e non solo. Quindi veramente una settimana importante, tutta la vivere di Cartoceto Capitale Terrenale Cultura con Pesero 24 e crediamo che sarà una di quelle che ci ricorderemo maggiormente anche in vista della sfida della Capitale Europea 2033.